Signori, finisce qua la 31esima di campionato, settima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Specifichiamo, se no. Se dobbiamo parlare di campionato siamo alla quinta vittoria consecutiva. Il titolo parla chiaro, perché questa è dimostrazione di quello che dovevamo barra saremmo potuti essere quest'anno. Quest'anno potevamo giocare come abbiamo giocato oggi, tutto l'anno. Forse magari non tutto l'anno, ma diciamo in maniera molto meno altalenante di quello che è stato. Quando sento parlare di riconferma dell'allenatore, io faccio poca fatica a ricordare quello che è successo fino alla partita col Monza. Perché quando va tutto bene si è felici, quando va tutto male si è arrabbiati e non si ha mai questo spirito critico di valutare tutto l'insieme. Cioè sempre il tifoso è sempre va tutto bene, sono contento, va tutto male, sono arrabbiato. Leggo anche pagine sui social che dicono che un mese fa dicevano Pioli out, adesso dicono Pioli rinnovo a vita. Ragazzi, sono sempre della mia stessa idea dal giorno che abbiamo alzato lo squelto che Pioli con Milan deve finire. Io sono sempre di questa idea. Io non mi portassi a casa Europa League vincendo 7-0 in finale. La mia teoria è questa. Perché abbiamo capito che il Milan può fare tanto, ma quel tanto che può fare potrebbe non essere abbastanza. E questo campionato non è stata la piena dimostrazione. Che due anni fa quello che riesce a fare Pioli è bastato, quest'anno non basta. Quest'anno non basta, siamo usciti dalle altre competizioni in maniera, direi, ridicola. E abbiamo il dovere e il bisogno di fare molto di più. Comunque sia. Andiamo avanti con ciò che stavamo dicendo. La partita di oggi è stata ineccepibile. Ha preso una traversa e ha fatto una parata a Meignan. Perché quella è stata riassunta della partita del Lecce che ha proprio giocato a... Era veramente una sfida contro loro stessi a giocare il peggio possibile. E penso ci siano riuscite una partita che giochi dieci volte e il Milan la vince undici. Gol bellissimi, azioni con una logica. Però quello che mi viene da dire è... Ma è possibile che abbiamo dovuto aspettare aprile-maggio per vedere questo? Perché io non voglio passare come lato distruttivo, però... Voglio un attimo placare gli animi, anche perché in Europa League siamo solamente quarti di finale. Metto già gente che parla di cose, io voglio un attimo mettere... Far scendere un attimo le persone sul pianeta Terra. Fare questi cammini è bello, è soddisfacente. Io la partita di oggi mi sono divertito. Perché è stata bella? È una partita che avrei voluto vedere, soprattutto all'andata, perché all'andata avrei voluto vedere una partita così. Cosa che per il primo tempo abbiamo visto, ma per il secondo no. Però, ragazzi... Mi guardo un attimo indietro e dico... Oggi è il 6 aprile. È possibile che per vedere il Milan così bisogna aspettare il 6 aprile? Poi, il 6 aprile dell'anno scorso eravamo proprio l'esatto contrario, eravamo partiti bene e poi abbiamo fatto veramente una spirale a caduta libera. Diminuiti gli impegni, diminuiti le coppe, diminuiti questo e quello. È ovvio che recuperi gli infortuni, la squadra raggiunge la forma fisica che avrebbe dovuto raggiungere l'ottobre, la raggiunge a marzo. È ovvio che le partite, come anche quella di Firenze, le va a vincere in maniera anche a volte netta, ma a volte vinci giocando meglio. La partita di Firenze, ragazzi, l'avessimo giocata a gennaio, a novembre, a dicembre... Non neanche l'avremmo pareggiata, l'avremmo persa. L'avremmo persa la partita di Firenze. Solo che adesso la Fiorentina è quello che è. Il Milan ha raggiunto la forma fisica che noi attendavamo tanto ed è facile adesso. E queste partite hanno dimostrato quello di cui noi eravamo capaci da inizio stagione e quello che quando abbiamo visto una campagna acquisti del genere, da un lato ci aspettavamo. Perché i nomi che sono stati portati dentro questa squadra hanno tutti reso. Pulisic ti ha messo il gol oggi, Lothus Cic, vabbè, era squalificato, però... Mi pare che il suo... Lo faccia... Anche di più quello che ci aspettavamo. Ciuqueze, dopo la Coppa d'Africa, infortuni vari, ambientamento... Anche oggi l'assist l'ha portata a casa. Leao ce l'ha fatta raggiungere una forma fisica decente. Iovic lo fanno giocare 10 minuti, sennò sicuramente potrebbe fare molto meglio. E io mi dico... Perché? Perché dobbiamo essere a meno... Tanto vincono anche questa giornata. 14 punti della prima. Essere secondi è bello, è bellissimo. Però a meno 14 della prima. E dici, cazzo... È bello essere secondi quando tu... Stai sotto di 2, 3, 4 punti. Che dici, cazzo? Mi devo impegnare. Devo sperare anche che il cielo me la mandi buona per recuperare qualche punto. Ma adesso... Essere secondi. Dici, sì, sono secondo sopra la Juve, sopra il Napoli, sopra la Roma, sopra la Lazio. Ma poi? Cosa ti rimane in mano? Niente. Non niente. E questa cosa, ragazzi, mi fa molto infastidire perché, come ripeto, potevamo avere non tanto, tantissimo da questa stagione. Potevamo fare un sacco di punti in più. Un sacco, ragazzi. E invece... Abbiamo deciso di... Soprattutto novembre, dicembre... Scusate, ottobre, novembre di non giocare più. Di non giocare più. E questa è una cosa molto, molto triste. Perché poi arrivi a fine campionato, che giochi bene, ti guardi indietro e dici, io ho perso punti a Napoli, ho perso punti a Lecce, ho perso punti a Salerno, ho perso punti in casa con l'Udinese. E tanto, erano... 9-10 punti in più che potevi avere oggi. Già. Ragazzi... Non so cosa dirvi. Quando vinciamo così, i commenti da fare sono riduttivi. Perché è una partita dominata. Ora, quando perdiamo, ci sono tante cose da spiegare. Ma quando vinci così... Vogliamo parlare degli episodi? Parliamo degli episodi. 1-0, arriva su un gol favoloso che si inventa Pulisic. 2-0, Giroud, quando annunza la palla di testa, è sua. Arriva l'espulsione, a mio parere netta, ragazzi. L'espulsione di Christofic è stata nettissima. Cioè, neanche a parlarne. Piede praticamente a martello sulla spalla, a petto di quello che era di Cioqueze. Lì, l'arbitro ha fatto benissimo a stare rosso diretto. E il 3-0 arriva su un contatto che gli è stata data molta più importanza rispetto a quella che si meritava. E per il gol del 3-0 veremo ragazzi criticati tutta la settimana. Mina ruba, di quel di là. Fate una cosa. Lasciate perdere. Lasciate perdere. Errori non ce ne sono stati. Cartellini, parte di Cioqueze, nemmeno. Grosse svise difensive non ci sono state. Quando vinci così... È bello. Sono quelle vittorie che devono arrivare perché tu giochi contro il Lecce, che è quarta, quinta, ultima. E sono quelle vittorie che tu ti devi aspettare e devi vedere. Dispiace di essere di poche parole oggi, di aver fatto più che altro la degressione su ciò che è stato nei mesi scorsi. Più. Molto di più. Rispetto a quello che è stato oggi. Però quello che è stato oggi ragazzi. Quando giochi così bene... Fai complimenti alla tua squadra. Sei contento e vai avanti. Detto questo ragazzi, seguitemi su TikTok. Perché Doni Mattine esce sia la live reaction... Su YouTube. Ma adesso le sto anche recappando su TikTok. E ragazzi, io su TikTok vi aspetto perché... Tutte le live reaction... Quasi. Sono recappate qui. Grazie ragazzi, un bacione. Alla prossima. Da dire tutto. Statemi bene. Grazie.